salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco ci ritroviamo su dissidia con fantasy opera omnia versione giapponese perché sono arrivate tutte le novità di questo fine luglio 2021 2021 dove appunto abbiamo la preview di tutte quelle che sono le novità che verranno introdotte all'interno del gioco mi dispiace se sentite il mio tono di voce un po più basso ma in questi giorni sono stato un po basso con la voce quindi cercherò di sforzarmi cercherò di impegnarmi per mantenere il mio tono di voce costante detto ciò partiamo subito con l'introduzione dell'evento che verrà annunciato nella sezione giapponese già a partire da domani ovvero la medal challenge boss dove avremo a che fare di nuovo nuovamente con il sahajin con i sahajin shaman che sono appunto quei fastidiosissimi nemici che si buffano continuamente e che tecnicamente dobbiamo buttare giù in contemporanea per evitare che poi possano fare un cleanse dei propri debuff e addirittura buffarsi il turno dopo per quanto riguarda il counter abbiamo già la conoscenza del counter di questa lufenia o meglio dire lufenia plus dove dovremo effettuare danni di tipo sacro per aumentare il counter di sei punti e novità delle novità che stanno ultimamente introducendo all'interno delle lufenie il counter non si abbassa più di due punti quando attaccano gli avversari ma bensì il counter si abbassa solo quando attacca il giocatore e inoltre ogni volta che attacca il giocatore il counter si abbassa di due punti mentre invece quando è il nostro avversario ad effettuare l'azione il counter non viene toccato quindi qua già stiamo iniziando ad entrare in una nuova meccanica di lufenia a dire il vero che ovviamente verrà sicuramente sviluppata in seguito e ci permetterà di incrementare sicuramente la difficoltà detto ciò c'è da dire anche che comunque il counter non sarà un counter che effettuerà ko sarà un potente attacco bravery più hp ma al tempo stesso dispellerà tutti i buff sulla testa dei nostri alleati e inoltre permetterà ai due sahagin ovvero i nostri avversari di potersi baffare quindi questa già è la condizione per quanto riguarda questa medal challenge medal challenge che viene accompagnata dal suo protagonista niente poco di meno che seodore da final fantasy 4 after years protagonista vogliamo dire così della serie appunto after years che riceve è la sua arma bt arma ld abbiamo già ottenuto in precedenza con il capitolo se non ricordo male col capitolo 2 dell'atto 3 adesso invece riceviamo la sua arma bt arma bt abbastanza particolare perché ci consente di effettuare l'attacco cerulean dive dove abbiamo praticamente un attacco a oe di tipo sacro bravery più hp di tipo ranged ovviamente che ci consente di ottenere degli effetti burst effetti burst che consentiranno al buff di seodore awaken di non sparire quindi che cosa vuol dire vuol dire che saremo potenziati durante tutto il periodo praticamente dell'effetto burst quindi il nostro buff awaken che è quello che solitamente scade e che ti leva anche la possibilità di ottenere hp una volta scaduto ovviamente quindi riduce gli hp dell'80 per cento questa volta non scade durante l'effetto bt aumenterà a quanto pare le statistiche del party in generale e inoltre ci sarà un bonus per tutti quanti i membri del party che avranno gli hp superiori al 50 per cento quindi avranno praticamente un bonus per quanto riguarda appunto le statistiche non viene ovviamente seodore viene accompagnato anche dalla sua skin ovvero la sua versione originale della sezione di after years dove appunto abbiamo la possibilità di poterlo notare con i vestiti non regali quindi con i vestiti diciamo da comandante delle ali rosse e ovviamente seodore non sarà da solo non sarà da solo perché appunto esiste la bt reprint niente proprio di meno che tidus tidus ritorna insieme a seodore con la sua arma bt che adesso prenderà l'estensione a burst plus tidus è stato un po una sorpresa a dire la verità perché non sapevo quale fosse la reprint non immaginavo potessero appunto inserire tidus però nel momento io in cui ho visto i sahagin nell'anteprima della lufenia ho detto sicuramente qua c'è tidus e infatti così è stato tidus è una costante contro questi tipi di nemici quindi diciamo che questa tradizione del gioco non è stata infranta per cui tidus che ritorna all'interno del gioco prende la sua estensione a burst plus e prende anche un rework rework che si a quanto pare sarà semplicemente un potenziamento per quanto riguarda shot e jack shot che avranno possibilmente qualche hit o comunque la brave potencies aumentata prende il livello 90 ovviamente e abbiamo la possibilità di avere la burst plus con effetti aggiuntivi di brave damage up e brave damage limit up quindi vuol dire che potremo essere decisamente più aggressivi all'interno del campo di lotta andiamo avanti perché avremo anche l'introduzione di sahagin ld sempre a partire da domani che è molto probabilmente sarà inserito nello stesso banner con seodor quindi sarà comunque un buon banner dove poter buttare sicuramente qualche ticket nella speranza di trovare la ld di saian dove avremo ovviamente anche il suo rework rework che viene accompagnato dall'arma ld l'arma ld che ci consente di sbloccare l'attacco buscito tempest che potrà essere utilizzato soltanto quando gli stack di buscito saranno a 7 nel momento in cui gli stack di buscito saranno a 7 garantisce del bravery a se stesso in base all'attacco ed effettua un attacco a sua volta che ignora le difese del nostro avversario attacco melee ovviamente bravery più hp che si basa a quanto pare sul numero sul numero dei buff attivi del target quindi bisognerebbe in un qualche modo far buffare il nostro avversario per permettere di effettuare tanti danni comunque con questo attacco non so quanto possa essere interessante questa meccanica perché tendenzialmente noi non andiamo a far buffare i nostri avversari anzi tentiamo sempre di debuffarli quindi avere un attacco che si basa sui buff degli avversari in realtà non è un granché non verrà consumato il bravery con tutte quante le hit del suo attacco eccetto per l'ultimo attacco hp dopo aver utilizzato questo attacco gli stack di buscito ritorneranno ad uno gli stack in generale di buscito saranno praticamente 7 in totale quindi il massimo degli stack sarà 7 e questi stack di buscito potranno essere garantiti equipaggiando la passiva dell'arma ld bisogna anche avere lo status di concentrazione attivo per permettere di incrementare gli stack e infatti gli stack aumenteranno di uno ogni qualvolta saian effettuerà un'azione anzi no dopo che il party praticamente effettuerà un'azione a quanto pare ah no dopo il proprio turno quindi è proprio saian che deve effettuare il turno vengono aumentate ovviamente tutte le statistiche di saian quindi come sempre l'ld che dà questa spinta in più ai nostri personaggi inoltre quando se stesso quindi quando saian attacca un nemico che non ha nessun buff nessun buff attivo ignora la riduzione dei danni breveri e ovviamente ignora anche le difese quindi già qua scatta praticamente la contromossa dell'arma ld che la rende interessante ovvero il fatto di poter ignorare completamente le difese e ignorare completamente la riduzione breveri quando il nostro avversario non ha buff sulla testa quindi o funziona in base al numero dei buff aumenta il numero dei danni dell'ld o addirittura senza buff permette di ignorare completamente le riduzioni che sono cose ben diverse quindi tanta bella robetta andiamo avanti perché è stato annunciato anche dal 14 quindi domani praticamente la rerun di cloud of darkness e kitesit con ld quindi metteranno come hanno messo con bars a inizio mese il banner con cloud of darkness soltanto bt e kitesit ld che potrebbe essere un'occasione magari per chi se li è persi di poterli recuperare andiamo avanti perché abbiamo l'introduzione successivamente dell'interwined wheel di rem giorno 19 luglio del 2021 con l'introduzione ovviamente della sua arma ld arma ld che viene introdotta all'interno del gioco che ci consente di ottenere l'attacco point blank siphion sphere che ci consente di ottenere breveri in base alla propria max breveri attacco aoe magico breveri più un attacco aoe hp garantisce breveri al party in base ai danni hp che vengono effettuati ai nostri avversari e garantisce absorb magic a se stessa che appunto rappresenta un nuovo buff garantisce a tutto quanto il party free ability quindi free skill il prossimo turno quindi ogni volta che si utilizzerà ld ci sarà una free skill per tutto quanto il party per quanto riguarda il buff di absorb magic praticamente permette a rem dopo ogni suo turno di effettuare un follow up che si chiama siphon sphere detto ciò aumenta anche al quanto pare le statistiche al party vedremo poi nel dettaglio che cosa andrà ad aumentare in termini di numeri e percentuali andiamo avanti perché come viene caratterizzato questo attacco di siphon sphere con breveri che viene caricato a se stessa in base alla max breveri seguito successivamente da un attacco aoe magico breveri più un attacco a hp che garantisce breveri al party in base al danno che viene effettuato ai nostri avversari e successivamente garantisce breveri all'alleato più vicino per quanto riguarda la turnazione eccetto se stessa e garantisce anche il buff di magic projection questo tipo di buff magic projection praticamente non può essere esteso non sappiamo ancora cosa fa nello specifico però viene dato sempre comunque al target o comunque per meglio dire all'alleato accanto a lei quindi anche nel momento in cui noi faremo praticamente il turn swap permetteremo di dare questa protezione in questo caso questa proiezione per come viene definita dalla traduzione al nostro alleato quindi vedremo poi successivamente che cosa andrà a cambiare rem riceve anche la sua skin da praticamente lc della fenice rossa veramente bellissimo anche anche questa divisa di rem che è praticamente la stessa divisa che ha quando affronta macchina alla fine del gioco veramente veramente bella devo dire che con le skin ultimamente gli sviluppatori si stanno proprio divertendo stanno tirando fuori dal cilindro tante belle robette come skin e di questo ne sono veramente veramente contento quindi bella roba bella skin anche per quanto riguarda rem ma detto ciò iniziamo ad entrare nella parte su cosa sia del video che è soprattutto della componente campagna estiva della versione giapponese campagna estiva giapponese free multi tutti i giorni avete capito bene tutti i giorni in periodi diversi fino al primo settembre 2021 all'interno del gioco sarà possibile effettuare una free multi su dei banner speciali i classici banner all stars che abbiamo avuto precedentemente anche in altre situazioni vengono ripresentati all'interno della campagna estiva infatti avremo il periodo dal 21 fino al 28 luglio quindi periodi che vanno di settimana in settimana quindi potete già farvi bene o male un calcolo saranno dei banner settimanali che avranno ogni giorno la prima multi gratuita da 10 più 1 primo banner che verrà rilasciato in gioco con final fantasy 1, 8 e 13 successivamente avremo final fantasy 2, 9 e 12 final fantasy 3, 11 e type 0 successivamente final fantasy 4, 10 e 5 poi final fantasy 5, 7, world of final fantasy e se non sbaglio quello dovrebbe essere tactics e infine final fantasy 6, 14 e crystal chronicles series quindi abbiamo praticamente un banner anzi abbiamo questo tipo di banner con questi final fantasy per ogni settimana e ogni giorno avremo la multi pool gratuita inoltre verranno incluse anche le ld all'interno di questi banner e cosa da sottolineare includeranno tutte quante le armi ld tranne quelle a partire cioè fino praticamente al giorno 19 quindi fino all'interwined will di rem quindi ci saranno tutte le ld disponibili del gioco tranne quella appunto di rem o comunque in generale dell'interwined will di rem ma andiamo ancora avanti perché non è finita abbiamo praticamente la prima multi summon gratuita di tutti i banner che saranno inclusi all'interno della campagna estiva quindi abbiamo la prima multi draw per quanto riguarda la start dash campaign che viene resettata il 21 la summer campaign gacha numero 1 quindi il banner dedicato alla campagna gacha estiva che verrà appunto introdotto sempre il 21 il banner della boss rush giorno 26 la divine di leviathan giorno 30 e la bt ovviamente rerun sempre giorno 30 quindi ci saranno due banner per quanto riguarda il banner di leviathan come sempre e inoltre verrà inserita un'altra bt rerun come sta venendo inserita praticamente cloud of darkness insieme a kitesit in questo frangente di evento che appunto sarà domani abbiamo anche la seconda parte ovviamente della campagna estiva perché vi ricordo che le free pool saranno bene o male attive fino a settembre quindi avremo anche il lost chapter di seed rains la summer campaign gacha numero 2 come banner il nuovo personaggio che verrà introdotto il 10 agosto che avrà appunto la prima multi gratuita la trascendence di giorno 13 agosto la bt rerun sempre di giorno 13 un altro interwined wheels che sarà appunto attivo il 18 di agosto il terzo banner della campagna estiva giorno 20 il ride boss che verrà invece introdotto il 25 il nuovo capitolo addirittura arco 3 capitolo 7 parte 1 il 31 di agosto e la bt che viene rerun nata anche nello stesso periodo del 31 agosto quindi già abbiamo praticamente anche il calendario completo degli eventi di agosto solo che non sappiamo effettivamente chi saranno i personaggi interessati ma già abbiamo le date praticamente con i quali escono i personaggi e gli eventi presenti all'interno del gioco novità delle novità che vi avevo anticipato in live e che adesso vi do conferma essere sicura al 100% cloud e squall che ricevono il livello 90 e l'estensione a burst plus start dash campaign che viene riproposta e resettata nuovamente anche per i nuovi giocatori dove adesso abbiamo praticamente il livello 90 e burst plus di tutti quanti i protagonisti dello start dash l'ining era stata la prima ad aver ricevuto appunto la burst plus e il rework tra virgolette del suo kit in generale adesso invece abbiamo sia cloud che squall entrambi prenderanno rework prenderanno il cap del livello 90 e inoltre l'estensione a burst plus dove abbiamo per cloud un attacco up e un bravery damage up mentre invece per quanto riguarda squall a quanto pare verrà ritoccato il danno massimale HP che potrà effettuare ai nostri avversari quindi avremo praticamente di fronte due picchiatori seriali in maniera pazzesca e inoltre come detto prima tutti quanti i personaggi della start dash prenderanno il livello 90 quindi sia cloud che l'ining e anche squall avranno la possibilità di passare al livello successivo andiamo avanti perché c'è un'altra novità che viene introdotta insieme alla start dash ovvero l'Illisette l'Illisette che prende la sua arma LD e il suo rework sarà interessante vedere come sistemeranno questo personaggio perché diciamo che come hit e come kit si vede che comunque è abbastanza datato per quanto riguarda ovviamente la sua arma LD ci permette di utilizzare l'attacco Vivifying Waltz e Rudra Storm che ci consente di recuperare HP al party garantire bravery al party in base alla propria max bravery avere un HP overflow per quanto riguarda tutto il party e garantire Vivifying Waltz a se stessa sarà un buff di cui ancora non abbiamo effettivamente notizie però già sappiamo che questo buff caratterizzerà appunto la nascita dell'LD successivamente verrà effettuato un attacco melee bravery più attacco HP quindi a quanto pare sarà un single target molto probabilmente con splash finale che infligge Bond Through the Ages a tutti quanti i nemici quindi un nuovo debuff che verrà inflitto ai nostri avversari per quanto riguarda l'LD non abbiamo diciamo numeri alla mano o comunque caratteristiche da sottolineare possiamo dire semplicemente che aumenterà tutto quanto il party le statistiche molto probabilmente come Brave Damage Up HP Damage Up eccetera eccetera mentre invece il debuff Bond Through the Ages permetterà di effettuare danni HP in più ai nostri avversari e ad ogni inizio turno dei nostri avversari riduce il bravery e garantisce il bravery a se stesso quindi un effetto sap che praticamente caratterizza il debuff che infliggiamo ai nostri avversari inoltre Lillisette riceve anche la sua skin alternativa anche questa direi abbastanza gradevole alla vista e inoltre vengono introdotti anche i gelati con la testa di Chocobo per quanto riguarda la skin ovviamente delle Dagger quindi una nuova skin presente all'interno dello shop con Dagger vengono introdotte anche delle co-op speciali per quanto riguarda ovviamente la campagna estiva così come vi avevo detto che ci sarebbe stato un evento sicuramente date tutte queste BT Plus che venivano rilasciate durante questo periodo era inconcepibile non permettere ai giocatori di poter ottenere materiali per poter potenziare le proprie armi Burst Plus infatti abbiamo dal 30 di luglio fino al 13 agosto e dal 13 agosto fino al 27 agosto delle co-op in generale che potranno essere farmate all'interno del gioco che ci consentiranno appunto di ottenere materiali specialmente per il potenziamento delle nostre Burst Plus vengono rilasciati tra l'altro altri dettagli per quanto riguarda la nuova OPE OPE che verrà rilasciata ovviamente verso metà del mese di agosto anzi sì probabilmente inizio agosto o metà agosto addirittura questa volta dato che già sono uscite tante informazioni tutte in una volta per quanto riguarda la co-op cioè per meglio dire l'evento giornaliero del Chiactus avremo la modifica del Chiactus nella sua versione estiva a partire dal 21 di luglio fino al primo settembre completare la missione non ci darà più due ma bensì quattro medaglie come tante altre volte per un totale di 168 medaglie che si potranno reclutare o comunque si potranno acquisire durante tutto il periodo inoltre lo shop di luglio e di agosto del Cactus non avranno limiti quindi si potranno scambiare materiali all'infinito o per meglio dire per tutti i token che appunto abbiamo la possibilità di accumulare per quanto riguarda la versione un po' più shopposa del gioco dobbiamo semplicemente dire che verranno inseriti come potete vedere su schermo dei banner diversi che avranno ovviamente dei costi particolari che ci consentiranno di ottenere materiali per poter realizzare le BT ed LED Power Medals e Bonus quindi LED Power Medals perché sicuramente reintrodurranno lo shop delle armi LED il primo pacchetto per meglio dire contiene realizzazioni materiali BT ed LED Power Medals e Bonus successivamente il secondo e il terzo pacchetto avranno realizzazioni di armature a 7 stelle quindi lingotti e libro per le armature blu e ovviamente anche realizzazioni per le armi BT e il quarto pacchetto invece ci permetterà al solito di avere addirittura potenziamenti per quanto riguarda le armature a 7 stelle LED Power Tokens e materiali di realizzazione delle BT quindi saranno dei pacchetti che andranno sempre di più a offrire roba interessante credo che il pacchetto più abbondante sia appunto il quarto che contiene praticamente tutto infatti verrà introdotto lo shop delle LED che verrà praticamente aggiornato con tutte le armi LED fino al 30 giugno del 2021 quindi fino al rilascio delle LED di Gilgamesh quindi ci saranno tutte le LED del gioco disponibili tranne quelle di Gilgamesh in poi che ovviamente non potranno essere recuperate al momento altre informazioni abbiamo praticamente il reset del bonus delle coop del first met quindi un totale di 4000 gemme che potranno essere farmate nuovamente dai giocatori verranno resettate anche le gemme del tutorial che non saranno più 10.000 ma saranno 20.000 addirittura però questo è un bonus che sarà sottolineato solo per i nuovi giocatori quindi questa è anche un'occasione ottima per iniziare a giocare ci saranno delle chocoboard a tema di summer campaign che permetteranno di ottenere materiali di realizzazione armature e BT ci saranno delle chocoboard da completare con potenziamenti per quanto riguarda le ricompense che appunto potremo ottenere ci sarà anche praticamente lo start dash gem reset sale quindi la possibilità di poter acquistare un pacchetto legato allo start dash e poi praticamente abbiamo gli eventi che vengono invece introdotti con la campagna estiva dove abbiamo praticamente tutti i personaggi con esperienza per due per tutto il periodo della campagna estiva le world of illusion con il carbuncle treasury pot le cycle quest che otterranno le ricompense per tre e i cactuar avranno l'apparizione sempre moltiplicata per tre e ovviamente anche lo shop per quanto riguarda gli oggetti di supporto come abbiamo appunto potuto acquistarli fino a questo momento la prossima Ope Ope verrà rilasciata appunto a fine luglio quindi avremo la possibilità di avere nuova Ope Ope a fine luglio con tutte le informazioni che abbiamo già visto praticamente per il mese di agosto ma avremo al solito l'Ope Ope che introdurrà metà mese di agosto e poi successivamente l'altra metà mese di agosto detto questo non c'è nient'altro di cui debba parlarvi spero che questo video un po' corposo vi abbia un attimo scosso le anime e le coscienze io come sempre vi aspetto con i prossimi appuntamenti qui sul canale youtube oppure in live sul canale twitch dove appunto adesso abbiamo la programmazione completa ufficiale del canale per tutto questo periodo estivo e fin quando ovviamente non cambieranno i miei progetti che potete trovare sia su discord che sul mio canale twitch in maniera totalmente gratuita detto ciò vi ringrazio come sempre per aver visto il video vi ringrazio per la compagnia spero che queste informazioni possano esservi state utili e noi come sempre ci becchiamo alla prossima bye bye